L'omicidio di Pescara. Thomas è successo per questione di rispetto. Diceva che per lui era diventata una questione di rispetto. Era infatti la vittima a dover dare 250 euro a uno dei due ragazzi 16 anni indagati per l'omicidio di Thomas Luciani, avvenuto domenica sera a Pescara. Lo si legge nei verbali degli interrogatori a cui sono stati sottoposti nella notte di domenica gli altri ragazzini coinvolti nella vicenda. Secondo la ricostruzione tutti si sono incontrati alla stazione di Pescara e da lì sono andati al parco Baden Powell. Uno dei due ragazzi indagati aveva già il coltello. Quando chiedono ai ragazzi testimoni perché uno dei due pur non avendo nessun credito nei confronti della vittima, non conoscendolo neanche, abbia preso il coltello e abbia sferrato anche lui i defendetti su Thomas a terra, la risposta è stata perché sono amici dei verbali e emerge che il creditore era un piccolo spacciatore come anche la vittima. 15 coltellate sferrate dall'uno, 10 dall'altro, sputi sulla vittima gorizzanti a terra e persino una sigaretta spenta sul volto. Queste le dichiarazioni del testimone. Poi una volta al mare macabre battute su come il ragazzino era stato ridotto. A meno di due giorni dall'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 17enne di Rosciano, ucciso domenica pomeriggio con 25 coltellate. A svelarli è il quotidiano abruzzese il centro nell'edizione odierna. I terribili dettagli del delitto sono contenuti nel decreto di fermo dove si sottolinea che i due 17enne in concorso, tra loro uccidevano Christopher Thomas Luciani con 25 coltellate, arriccando se vizi operando con crudeltà mediante calci e spute mentre era riverso sul terreno esanime. Ciò che emerge all'essenza di empatia emotiva con un fatto di tale inaudite ferratezza, tale da inveire sul cadavere, recandosi presso uno stabilimento baleare per fare il bagno senza chiamare soccorsi o denunciare il fatto alle autorità, si legge nel decreto. I rantoli di Thomas agonizzante e i due che gli dicevano stai zitto e il racconto del testimone del terribile delitto di Pescara. Ero allibito, volevo fermarli ma non sapevo come fare, sembrava che non ci stessero più con la testa, ha detto il giovane che ha fatto poi scattare l'allarme, scrive il centro. Il testimone. A Christopher Thomas Luciani sarebbe stata attesa una trappola, lo si evince dalle parole appunto del testimone, il giovane che ha assistito alla scena e a poche ore dei fatti ha raccontato tutto al padre che ha raggiunto il parco con il figlio e ha allertato le forze dell'ordine. Il ragazzo anticipa il centro, racconta di un appuntamento alle 16.30 alla stazione di un primo confronto nella zona del terminal bus con la vittima, poi costretta a spostarsi verso il parco in una zona appartata. Quando ho raggiunto il punto di visuale che mi permetteva di vedere la posizione in cui si trovavano, ha raccontato ho visto Christopher a terra che perdeva sangue e ho capito subito che lo avevano accoltellato. Tutto questo negli articoli sul centro di Simona De Leonardis e Maurizio Cirillo. E intanto parla la madre di uno dei due giovani fermati, posso solo pregare, credo nella giustizia. Il titolo del Corriere della Sera con una delle poche dichiarazioni rilasciate dalla madre di uno dei due minori fermati per l'omicidio del 17enne Thomas Luciani.